io c'ho mia madre che ha 86 anni e sta piena di paura e non si può vivere così il sindaco ci deve aiutare ci deve aiutare non che lui se ne va a barcatura se ne va un dragone e a noi ci lascia nella merda un solo cesso ha messo qua per andare in bagno manco in bagno possiamo andare e non mangiamo io ho la casa tutta spaccata dove sta sta gente dove sta ieri sera c'erano gli sciacalli siamo dovuti scendere con le mazze andacchiapparsi i ragazzi sui motorini che volevano entrare nelle nostre case ma è possibile che dobbiamo fare anche questo noi la legge dove sta che vi devo dire siamo pieni di paura queste dobbiamo convivere